che cosa sono io adesso 1 0 che cosa posso essere domani posso risuscitare dei morti e ricominciare a vivere sarà un momento un po così non so sto cercando di ritrovarmi di ricercare delle cose che delle risposte non lo sono non ti è mai capitato di essere in crisi di non capire più di non avere più voglia ecco sì allora dici su davvero pensi che veramente ti possa aiutare mi ricordo che le sue letture mi insegnavano a vedere il mondo conoscere la vita a navigarla con calma mi insegnava a vedere il mondo a conoscere la vita a sapere come prenderla a trovarci gusto e navigarla con calma grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti